Un minuto con Padre Pio, dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui per raccontarvi quello che Padre Alessio riporta nel suo libro, Mandami il tuo angelo custode. 1959, lui era nella chiesa grande di Santa Maria delle Grazie, con un altro sacerdote e stava distribuendo la Santa Comunione ai fedeli. A causa del gran numero dei fedeli, ben presto si svuotò completamente la grande piscide dove all'interno vi erano tutte le ostie, quindi che lui aveva fra le mani. Quindi lui racconta nel suo libro che ritornò verso l'altare e cominciò a purificare la piscide. Aveva appena finito e stava sul punto di coprirla. Ma in quel momento lui disse, vedi dalla mia destra un'ostia, quasi a mezzare che stava cadendo e si andò a posizionare proprio sulla piscide stessa. Determinando proprio un vero e proprio impatto, ma piccolo perché era vuota, quasi lui descrive proprio così un suono. Tim, proprio cadde all'interno. Fu un episodio che lo lasciò un po' perplesso, strano perché non aveva nessuno accanto. Infatti automaticamente girò la testa verso destra, verso sinistra per vedere se c'era qualcuno. Ma poi subito dopo giunse l'altro sacerdote, gli si avvicinò, lui prese l'ostia e la depose nella sua piscide. Beh, è un fatto così particolare che lui ne volle parlare con padre Pio. Quindi subito dopo la Santa Messa, andò da padre Pio, gli raccontò questa strana esperienza che lui aveva avuto poc'anzi sull'altare. E padre Pio gli rispose questo, guaglio, cerca di stare più attento e non distribuire la Santa Comunione velocemente. E poi ringrazia il tuo Angelo Custode che non ha fatto cadere Gesù per terra. Grazie per la visione!